Siamo qui allo stadio Lanfranchi, è iniziata la settimana che ci porterà sabato 16 febbraio allo stadio Zaffanella di Viedana dove si terrà una doppia sfida, un evento vale unico del suo genere e per la prima volta il Guinness Pro 14 condividerà lo stesso campo con il massimo torneo italiano del top 12. Le Zebbre affronteranno i campioni d'Europa dell'Einster mentre il Rugby Viedana 1970 ospiterà il Rugby Mogliano, siamo qua con due giovani avanti delle due società Massimo Siciliani tallonatore classe 97 delle Zebbre e Filippo Ferrarini terza linea classe 90 ora in forza al Viedana ma un ex indimenticato delle Zebbre. Ragazzi ben trovati, Filippo per Massimo si tratterà della prima sfida contro l'Einster mentre per te hai affrontato quattro volte i Dubliners tra la tua esperienza l'Ironi e quella le Zebbre. Come si difende il forte pack irlandese e cosa ricordi della sfida in tusche contro Callen ora head coach dell'Einster? Ho avuto la fortuna di giocare quattro volte contro l'Einster che è la squadra campione d'Europa e la squadra che ha vinto di più in Europa negli ultimi anni. Il consiglio per poter difendere un pack forte come quello di Leinster è metterci più carattere possibile che non vi manca e non ti manca soprattutto te e placare forte, cercare di rallentare i palloni e togliergli il ritmo, una squadra che cerca di fare molte fasi e che sul ritmo si trova a memoria. Allo Zaffanella con gli Eroni abbiamo fatto una partita molto forte col pack e il consiglio è cercare di arginarli lì per non permettere poi di far correre le loro frecce che hanno gambe. Massimo, i tifosi sono da sempre il sedicesimo uomo dello Zaffanella. Che cosa ti ha colpito dell'ambiente vadanese e cosa ti ha lasciato quando sei passato poi quest'estate alle zebre? Sì, la prima cosa che mi ha colpito quando sono approdato a Via Dana è stato appunto il pubblico, un grande pubblico molto caloroso che sempre sostiene la squadra in ogni momento sia che vada bene o che vada male. Quindi il pubblico veramente è stata la prima cosa che mi ha colpito e basta. Filippo, dopo tanti anni in giro in Italia e anche negli Stati Uniti sei tornato a Via Dana. Cosa ti ha convinto e qual è il progetto che ti vede ora protagonista in maglia giallonera? Io avevo un ricordo bellissimo di Via Dana che è stata la mia prima esperienza fuori casa e quindi la sentivo un po' come la mia seconda casa. È stata un'esperienza molto importante la prima che ho fatto con gli eroni quindi quando mi è stata proposta di tornare a Via Dana mi sono sentito di sì perché per me è stato come tornare nel mio club, quasi come tornare a Noceto. La stagione è stata un po' difficile fino adesso ma ci stiamo riprendendo e vogliamo fare il girono di ritorno da protagonisti. La scorsa estate avete entrambi ritrovato tanti vecchi compagni ed allenatori cambiando casacca. Tu Filippo apportando a Via Dana e Massimo invece arrivando proprio da Via Dana qui alle Zebre. Massimo quanto aiuta in questo aspetto integrarsi in un nuovo gruppo o ritrovare dunque vecchi compagni ed allenatori? Entrare in un nuovo gruppo dove conosci già persone aiuta molto la coesione con i nuovi compagni, comunque sai di conoscere nuova gente e tira anche un apporto mentale e emotivo molto migliore rispetto a non conoscere nessuno nei nuovi gruppi. Filippo ci ha parlato del Leinster di qualche stagione fa, mentre invece Massimo come si prepara questa sfida contro i campioni in carica di sabato prossimo che avete cominciato già alla videoanalisi? Che consigli daresti invece a Filippo per fare al meglio questa gara contro Mogliano? Sì, come ha detto Filippo prima, Leinster ha un pack veramente molto forte e anche una linea di tre quarti veramente veloce. Noi stiamo creando e facendo un bel game plan per la partita di sabato e ti faccio anche un in bocca al lupo per la partita di sabato e speriamo che una bella vittoria. Filippo, tu hai giocato più di 40 gare nel Pro 14 e anche 13 gare in Heineken Cup, la più prestigiosa competizione europea per club. Come si preparano, quali sono le emozioni della settimana che porta a queste sfide contro le più grandi squadre d'Europa? C'è sempre qualcosa di speciale, non importa quante volte ci hai giocato contro, quando giochi contro squadre come Leinster, Master o Ospreis, sai che dovrai dare sempre qualcosa di più perché davanti hai sempre i giocatori che fanno parte dei British and Irish Lions e delle nazioni più forti. È vero che durante queste nazioni non ci saranno ma quelli che sono rimasti a casa vorranno fare altrettanto bene e lo stesso vale per i ragazzi delle Zebre che si giocano un posto poi in nazionale, quindi è sempre speciale, insomma non c'è bisogno di motivazioni extra con una partita del genere. Dicevamo prima che saranno quattro le squadre che si affronteranno allo stadio Zaffanella di Vedana sabato, domanda per tutti e due, con chi sarà speciale condividere lo stesso campo negli avversari che ritroverete allo Zaffanella? Massimo? Io condividerò il campo con un ragazzo del Mogliano, Giordano Baldino, con cui ho fatto tutte le nazionali e anche l'accademia e un ex compagno di squadra dell'anno scorso, Adolfo Caila, che ora gioca nel Mogliano. Per te Filippo? Io senza neanche fare apposto ho una persona in comune con lui perché con Giordano Baldino ho giocato un anno a Mogliano e con Giordano Baldino ho legato tanto quindi non vedo l'ora di vedere lui, Federico Gubana e tutti i ragazzi del Mogliano perché ho legato veramente tanto con tutti e quindi ci farò chiacchiere e risate dopo la partita perché per noi è una partita molto importante. Tralasciando il rugby giocato, finiti gli 80 minuti, cosa ne pensate di questi speciali eventi ovali che vedranno proprio per la prima volta Top 12 e Guinness Pro 14 sullo stesso stadio? È una cosa molto intelligente perché può servire a coinvolgere la gente che magari purtroppo in Italia c'è un po' di campanellismo a volte tra le società e invece così si cerca di unire più eventi insieme e quindi aumentare l'affluenza di pubblico allo stadio che è molto importante perché quando c'è gente ti senti anche più forte perché lo senti il sostegno dei tifosi e spero che venga tanta gente da Parma, che venga tanta gente da Viedana perché per Viedana è una partita importante e per i tifosi del Zebra comunque l'Einster è la squadra più forte d'Europa quindi non ci sono altre cose da aggiungere per far venire la gente allo stadio. E per te Massimo non eri con noi in campo all'Aquila nell'aprile scorso? Cosa ti hanno raccontato i tuoi compagni e cosa ne pensi anche tu di questo speciale evento? No, mi hanno raccontato che è stata una partita e un evento veramente bello sia dal punto di vista sportivo ma anche per quanto riguarda tutto il circondario della partita tutti gli eventi che ci sono stati, il pubblico che era veramente tanto e caldo quindi vi aspettiamo a Viedana, tutti, perché anche non gioca la nazionale quindi un motivo in più per esserci allo stadio e tifare sia a Viedana che a Zebra Se venite ceci vi offre davvero a tutti dopo la partita, a tutti E allora facciamo un in bocca al lupo a Zebra e a Reggio Viedana nel 1970 Crepi il lupo 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 Crepi il lupo